Prima di entrare nel vivo della serata pregherei la dottoressa Mariano, che è componente della commissione straordinaria del comune di Squiziano, a porgere il saluto della città. Buonasera, ringrazio naturalmente tutti voi intervenuti, ma soprattutto il nostro graditissimo ospite per aver accolto l'invito della commissione straordinaria e di questa comunità a intervenire in questa rassegna che si chiama Pensare la musica e suonare le parole. Ringrazio il dottore Lono Lasco che è il nostro mentore della rassegna e quanti hanno partecipato nell'organizzazione di questa serie di opportunità, di eventi tra concerti e spettacoli che si sono svolti fino ad oggi nella Marina di Casalabate. Questo è il primo appuntamento, la prima occasione in cui ci incontriamo nella città di Squiziano, questa bellissima villa che è stata ristrutturata anche nell'intenzione di farne un contenitore culturale, quindi un luogo di incontro per la cittadinanza. Torniamo quindi qui a casa per un'occasione che noi crediamo importantissima perché proprio attraverso il dialogo culturale si può ripartire e riprendere quella socialità che c'è tanto mancata in questi mesi. Solo due parole vorrei sprendere sulla importanza della cultura in ogni territorio. Spesso ci siamo persi nel concetto di culture che abbraccia attraverso gli studi antropologici, sociologici, un significato di cultura che può essere cultura delle popolazioni primitive come cultura popolare, ma anche come cultura del mondo intellettuale, come strumento che veramente può essere la bussola per ciascuno di noi, non soltanto per orientarci nel mondo della conoscenza ma anche della vita. Noi vogliamo come amministrazione offrire un'opportunità, un'occasione che vi dicevo non soltanto per il dibattito, la socialità, ma anche e soprattutto per il superamento delle asimmetrie sociali. Quindi è uno strumento importantissimo che noi speriamo di poter coltivare e proporre a tutti voi. Quindi come partire se non con una rassegna culturale, con un ragionamento, una proposta sul tema della libertà che forse non è un'illusione, ci dirà il professore Galiberti, ma qualcosa di più concreto, di più sostanziale che forse può orientare non soltanto la crescita e lo sviluppo della nostra società ma anche dell'individuo. Ringrazio ancora il professore, ringrazio tutti voi per l'attenzione e prima di passare la parola alla verissima introduzione del nostro dottore Luca Nolasco, auguro a tutti voi un buon ascolto, un ascolto attivo, empatico, che ci aiuti a mettere da parte ogni frenesia della quotidianità ma che sia veramente un momento di ossigeno, di piacere per tutti noi. Grazie. Saluto anche il dottore Gagnano che fa parte della commissione straordinaria del comune di Squinzano, il comandante dei vigili urbani, gli amici dell'associazione Proloco Casa Labbate di Squinzano che tanto ci hanno aiutato nella realizzazione degli appuntamenti di questa rassegna culturale. Mi preme anche ringraziare la dottoressa Dell'Arna, funzionaria del comune che tanto si sta adoperando e la dottoressa Maria Pia Greco che ha curato in maniera ineccepibile la comunicazione in particolare di questo evento. Sappiamo tutti che le norme attuali anti-Covid costringono le organizzazioni a delle regole che purtroppo bisogna necessariamente e rigorosamente applicate. Detto tutto questo, ovviamente il professor Galli Inverti è talmente tanto noto che mi esonera da qualsiasi tipo di presentazione. e allora io vorrei approfittare di un brano che l'amico del Zegli, che è di Fugazio, ha messo durante l'attesa di questa conferenza. Era un brano di Giorgio Galli, grande artista amato da tutti noi, un artista che circa 50 anni fa aveva scritto una canzone bellissima che tutti noi conosciamo, che si titola appunto La Libertà, un artista tale che all'epoca aveva profetitamente intuito il livello culturale in cui l'Italia si sarebbe trovata, al di là di gli steccati di destra e di sinistra. Non a caso Gaber veniva attaccato da destra e da sinistra perché quando uno attacca le identità, le identità rispondono. E poi cos'è successo? E' successo che una terribile malattia lo ha portato via. E perché noi, noi intendo noi cristiani, tu no Umberto perché sei di cultura greca, quando dico di cultura greca voglio dire che chi ha quella cultura greca ha una visione tragica della vita, non per dire sfaccio il naif che sono di cultura greca, ha una visione tragica, bene diciamo noi cristiani siamo nati pienamente coinvolti in quello che Nietzsche definì il colpo di genio del cristianesimo, l'immortalità dell'anima. In questo modo il cristianesimo ha eliminato dalla cultura occidentale la mortalità e ha promesso a ognuno di noi, secondo precetto, un al di qua e un al di là. Questo tema della mortalità secondo me è molto legato all'idea della libertà. Questi temi sono stati affrontati dal professor Gallimberti in un libro che vivamente consiglio, per chi non l'avesse letto, Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto pubblicato nel 2012 da Fettinelli, dove il professor Gallimberti esamine esattamente questi temi che io ho appena accennato. Per concludere, credo che il professor Gallimberti vorrà proporci questa tesi. la libertà non esiste. Esiste l'idea di libertà e quando un'idea è importante, l'idea fa storia. Come l'idea di Dio. Nessuno di noi ha mai visto Dio. Non sappiamo se esiste o non esiste, ma esiste l'idea di Dio. E quest'idea ha fatto storia. A voi, Umberto Gallimberti. Grazie. Buonasera. Allora, Ruben Onasqua ha dato il titolo a questa conferenza che vorrei fosse un esercizio di pensiero. Pensare non è conoscere. La conoscenza è patrimonio della scienza. La scienza ha conoscenze. Il pensiero è una faccenda della filosofia. E fare un esercizio di pensiero significa vedere se le idee che abbiamo in testa sono fondate oppure no. Oppure sono il frutto di abitudini mentali di cose che abbiamo sentito perché tutti la pensano in quel modo oppure che contraddicono il modo di pensare comune semplicemente per distinguersi. Bisogna vedere se le nostre idee sono fondate. Questo è un esercizio di pensiero. In questo esercizio consiste la filosofia. La filosofia non sa niente. Lo diceva già Socrate. La filosofia ti invita a considerare le idee che hai in testa per vedere se sono fondate oppure no. Perché se non sono fondate tu ti comporti in base a queste e sbagli la tua vita. Allora, l'idea di libertà. La libertà, abbiamo detto, l'abbiamo detto, abbiamo annunciato, abbiamo dato questo titolo, secondo me non esiste. Esiste però l'idea di libertà. E le idee fanno una storia molto più potente di quanto non lo facciano le cose. Perché se tutti siamo convinti che la libertà esiste ci sentiamo lidani. In realtà scambiamo la libertà col fatto che noi, a differenza degli animali, noi uomini, a differenza degli animali, non abbiamo istinti. L'istinto è una risposta rigida agli stimoli. Rigida, mi interessa questo aggettivo. Noi non abbiamo risposta rigida agli stimoli. Abbiamo delle spinte, delle pulsioni a metà indeterminate. Anche l'istinto sessuale è così poco istintivo che io possa declinarlo in tutte le perversioni, cosa che non sembra sia possibile per gli animali. Oppure posso conferire alla mia pulsione sessuale una meta non sessuale tipo fare un'opera d'arte, scrivere una poesia, quello che Freud chiama sublimazione. Se non abbiamo istinti, siamo indeterminati. Indeterminati. Indeterminati significa che non abbiamo una direzione come invece hanno gli animali. E allora le direzioni abbiamo dovuto crearle per poter compitere. E a partire dalla tribù primitiva hanno incominciato a stabilire dei codici. Che cosa è permesso? Che cosa è proibito? Che cosa è totale? Che cosa è tutto? Che è tabù? L'uomo ha bisogno della cultura per impadrarsi e avere regole. Perché non ha istinto. Gli animali non hanno bisogno di cultura. Non hanno bisogno di istituzioni. Perché l'istinto è regola. Poi sono intervenuti tra religioni, tra alcuni precetti, i comandamenti. E poi sono arrivate finalmente le istituzioni che stabiliscono che cosa è lecita, che cosa non è lecita, che cosa è vantaggiosa per una comunità, che cosa non è vantaggiosa, che cosa è utile, che cosa non è utile. E ci sono le regole di comportamento per poter convivere. Le istituzioni sono quel tentativo approssimativo di organizzare una comunità che non è regolata dagli istinti. Queste cose non le dico io, le diceva già Platone. Nel protagono, Platone dice che aveva incaricato Epimeteo, il fratello di Palometeo, Epimeteo è un nome che vuol dire colui che pensa dopo, quindi è l'improvido, lo stupido, di conferire a tutti i viventi la loro qualità. Epimeteo, proprio perché è improvido, giunto all'uomo, non aveva nulla da dare. E allora Zeus, ha avuto pietà di questi viventi primi di qualità, cioè primi praticamente delle loro qualità istintuali, disse a Prometeo vai a dare a questi la tua virtù. La virtù di Prometeo è nel nome stesso Prometeus, vuol dire colui che vede l'anticipo. L'uomo prevede e mentre gli animali mangiano quando hanno fame, l'uomo sa di avere fame anche quando ha lo stomaco pieno, prevede di avere fame. E in questa struttura sta questo compenso alla mancanza istintuale. Allora, gli animali non sono liberi perché sono confinati nel loro istinto, non possono vivere dove vogliono. Se io porto un oro sull'equatore, muove. Se porto un leon a porno, muove. L'uomo può adattarsi progressivamente a tutte queste situazioni perché l'istinto non lo governa, non lo obbliga a essere una cosa piuttosto che un'altra. E pertanto resta indifferenziato. Indifferenziato non vuol dire libero, vuol dire impreciso, vuol dire semplicemente che non c'è una regola che lo costringe. Di qui l'importanza dell'educazione. Gli animali di educazione tra adulti e piccoli si risolve in poche settimane. L'uomo, proprio perché non ha istinti, ha bisogno di 15-20 anni, magari anche 30 oggi, per essere educato. E soprattutto la grande opera costruita dall'uomo, l'espressione più alta della cultura sono le istituzioni. che consentono agli uomini di essere in qualche modo regolati da regole comuni. Dunque, i greci non credevano nella libertà perché la loro concezione era che il mondo era governato dalla necessità. E la necessità era costituita dalle leggi di natura che loro consideravano quello sfondo immutabile che nessun Dio o nessun uomo fece, sempre stato e sarà. Il compito dell'uomo è quello di catturare le leggi della natura per costruire una città seconda natura e una condotta di vita seconda natura. Dire che la natura costituisce il paradigma su cui costruire la città e l'uomo significa che l'uomo appartiene alla natura esattamente come tutti i viventi. Al pari di tutti i viventi nasce, cresce, genera, muore. questa è la ragione per cui i greci che disponevano di due parole per dire uomo la parola aneer e la parola antropos non le usano quasi mai usano la parola zanetos che vuol dire morte immortali mortali e quando Prometeo ha donato il nome nella tecnica la capacità del calcolo rendendo dai difesi e muti padroni delle loro menti a un certo punto il cuore chiede tu non è che hai promesso ai mortali qualcosa che non sei in grado di mantenere l'allusione a un'altra vita oltre a queste e Prometeo risponde sì ho dato loro tu flasso e pidas cieche speranze ah allora bene ho fatto Zeus a incatenarti alla roccia e mandarti un'aquila che tirò del fegato che si riproduce per garantire l'eternità del supplizio perché ha ingannato i mortali questo è il mondo greco nel mondo cristiano la natura non è lo sfondo immutabile che nessun uomo nessun dio fece ma è una creatura di Dio e quindi è il prodotto della volontà e nella parola volontà è iscritta alla libertà perché io posso fare una cosa ma posso anche non farla volontà vuol dire includere la parola libertà quando Gesù è nell'orto dei cersemani e vive l'angoscia della morte dice al padre non dice al padre se puoi perché l'onipotenza di Dio è nota ma gli dice se vuoi allontana da me questo calice nel se vuoi vuol dire che tu questo calice lo puoi allontanare così come me lo puoi invece mantenere come mio destino quindi la parola volontà include la parola libertà perché posso fare una cosa oppure l'altra con la mia volontà bene il cristianesimo ha utilizzato subito la categoria della libertà perché libertà vuol dire responsabilità se tu sei libero sei responsabile delle tu azioni ma se sei responsabile sei anche punibile capito la sequenza una sequenza se sei libero sei responsabile se sei responsabile sei punibile io inviterai a pensare questa sequenza siamo davvero responsabili delle nostre azioni ma ci arriveremo dopo nel 1500 quando Martino Lutero ha stabilito che non ci si salva per le opere ma ci si salva solo per la fede gli umanisti italiani hanno capito subito che cosa intendeva dire Lutero e l'hanno chiamato Eleuterius Eleuteria è una parola greca che noi traduciamo con libertà ma che significa che ci libera da qualcosa Martino Lutero ci ha liberato Eleuterius lo chiamavano ci ha liberato dalla responsabilità della nostra azione perché la salvezza è nella fede in Dio e non nelle opere ma soprattutto il cristianesimo ha messo in circolazione un'etica che possiamo definire etica dell'intenzione quando uno compie un relato si considera quando uno compie un peccato si considera se aveva deliberato consenso e volontà di compier volontà di compier e piena avvertenza cioè si erano impegnati sia la mente che la volontà piena avvertenza e deliberato consenso se non lo hai la piena avvertenza e deliberato consenso e fai una cosa considerata peccato non è peccato perché ti mancano queste due condizioni questo è stato accolto dall'ordine giuridico europeo e oggi tuttora il diritto europeo è un diritto sostanzialmente cristiano niente di male il cristianesimo ha fondato l'occidente per me non esiste un non cristiano in occidente perché il cristianesimo non è solo una religione è una cultura è un inconscio collettivo e giustamente Gianni Paget-Bot che è un teologo molto intelligente scriveva sopravviverà l'occidente al cristianesimo e per conversa sopravviverà il cristianesimo all'occidente risposta negativa in tutti e due i casi bene il cristianesimo ha fondato l'occidente guarda il futuro con la speranza perché questa è una categoria cristiana e ha fondato il diritto europeo occidentale quando uno compie un reato si prende in considerazione se aveva intenzione di compiere allora è colpevole se l'ha compiuto ma non aveva intenzione il suo delitto è colposo oppure è intenzionale oppure è preto intenzionale vedete questa morale dell'intenzione in interiorità dell'anima e dentro la tua anima c'è l'intenzione da cui si capisce se sei o non sei colpevole ma come dice Max Weber l'interiorità dell'anima serve poco nell'età della tecnica e allora all'etica dell'intenzione Max Weber è un sociologo forse il più grande sociologo del novecento morto nel 1920 il quale scrive che l'etica dell'intenzione non serve nell'età della tecnica bisogna sostituire l'etica dell'intenzione con l'etica della responsabilità a me le tue intenzioni non interessano perché non le conosco e perché non le posso conoscere e perché non ho occhi sufficienti per entrare nella tua interiorità però posso considerare gli effetti della tua azione quali li vedo e allora per esempio è interessante sapere che intenzione aveva Oppenheimer quando ha inventato la bomba atomica no è interessante conoscere gli effetti della bomba atomica e allora bisogna avere un'etica per un'etica della responsabilità e qui con l'etica della responsabilità naturalmente si chiude l'etica dell'intenzione perché in integralità dell'anima è molto difficile andare ad indagare ma mentre negli effetti delle attuazioni questo è molto semplice molto facile si vedono e a partire dagli effetti dell'attuazione si decide se sei colpevole o no rispondi nelle tue azioni punto va bene questo scenario ha caratterizzato la cultura cristiana la conosce che arredita dal cristianesimo il concetto che gli uomini sono peccatori che vanno da dentro lo laicis e stabilisce che omo omini lupus l'uomo è un lupo nei confronti di un altro uomo e quindi non può essere lasciato in questa condizione di poter fare quello che vuole è necessario che i cittadini rinuncino a un aperto della loro libertà a favore dello Stato e nasce lo Stato Assoluto lo Stato Assoluto significa che c'è qualcuno che dirige l'universo mondo i mondi erano molto diversi anche molto limitati e la tua libertà l'hai delegata per avere la pace perché omo ominis lupus l'uomo è un lupo nei confronti dell'altro uomo e quindi va regalato con una rinuncia della libertà la libertà torna potente con la rivoluzione francese la quale rivendica egalité qui per te fraternité ecco ma questa parola la libertà cosa vuol dire una rivoluzione francese vuol dire un riconoscimento giuridico di coloro che compongono la comunità tutti gli uomini sono uguali e in quanto uguali sono anche liberi liberi dall'obbedienza dall'obbedienza per esempio a un signore a un padrone a un sottomesso perché gli uomini sono uguali dobbiamo sapere che l'illuminismo non ha fatto altro che riprendere le categorie cristiane e anche se il cristianesimo non ha capito niente dell'illuminismo e l'illuminismo non ha capito niente del cristianesimo e si sono messo i figari come animali feroci ma il concetto di libertà è un concetto cristiano perché non ci devono essere dice il Vangelo né liberi né schiavi legalità è un concetto cristiano siamo tutti figli di Dio la fraternità è un concetto cristiano e si chiama carità quindi il riuminito è una patata che riprende rigorosamente il cristianesimo in questo senso io dico l'Occidente è completamente cristiano e non lo sa perché non lo sa e non lo sa perché non lo conosce il cristianesimo basta considerare che quando i cristiani recitano il loro atto di fede non dicono credono nell'immortalità dell'anima che non esiste ma credono nella risoluzione del corpo e allora state un po' attenti quando pregate se pregate io vi invito a pregare ma considerate le parole che dite bene questo per quanto riguarda la rivoluzione francese la libertà però Max dice sì va bene la libertà ma la libertà ideata dai rivoluzionari francesi è una libertà solo formale siamo tutti uguali però il padrone della feriera non è uguale all'operario della feriera e non solo perché il padrone della feriera non lavora e l'operario della feriera lavora considerate che nell'ottocento si lavorava la bellezza di 14-16 ore al giorno le donne erano pagate un quarto del gommi i bambini non erano pagati e per lavori ripetitivi andavano bene anche quelli cosa che si sta riproducendo ancora oggi non abbiamo ancora restito questa anomalia allora dice mi dovrebbe arrivare ad una uguaglianza economica diceva e qui entriamo nell'ambito dell'economia gli antichi avevano un'economia molto interessante dove in gioco non era il valore delle cose ma il valore del possessore delle cose in gioco c'erano le soggettività se questo vaso è mio vale molto se io sono un potente se invece è di una famiglia che non è potente non vale niente allora erano i soggetti e il soggetto che ha valore e c'era una forma di scambio chiamato scambio simbolico dove il capo di una tribù invitava il capo di un'altra tribù e gli regalava faceva dei toni immensi gli regalava non so dieci schiavi quattro vascelli proprio regali molto molto potenti e c'era la legge obbligo di dare obbligo di ricevere obbligo di restituire con usù maggiorando oppure invitava il capo di un capo di un capo di un capo distruggeva davanti a lui le sue ricchezze e diceva sei capace tu di far questo di distruggere le tue ricchezze in maniera superiore come lo distrutte io e se l'altra non era capace quell'altra tribù diventava schiavo dalla prima questo era il gioco prima che nascesse il valore di scampio questo cosa significa che la cosa importante era il gioco non era tra il valore degli oggetti ma era tra il valore del possessore degli oggetti erano le soggettività che si ispitavano questo modello non è scomparso neppure oggi se voi andate a comprare le cose in massa vedete che a sfidarsi sono le soggettività non è il valore della cosa il vestito di Merlin Monroe non è che ha un valore in un minso ma il gioco delle soggettività e del rilancio lo fa diventare una cosa che ha valore non è scomparso tutto questo però non funzionava perché questo limitava un dispensio generalizzato della ricchezza questo sistema gli antropologi l'hanno studiato e hanno visto che esisteva nel Canada nelle isole di Trobria nelle Filippine da noi da tutte le parti e hanno chiamato questo tipo di distruzione generalizzata di questo dispensio generalizzato l'hanno chiamato Potlac Potlac significa disperdere un po' l'appondanza non accumulare perché l'accumulo ti dà potere il potere sempre negativo perché potente poi abbiamo introdotto una categoria nuova i Gresh l'hanno introdotta che lo scambio non più in base alla soggettività non più in base al soggetto che possiede il vitello che io scambio con 5 capretti ma lo scambio deve regolarsi sul valore dei 5 capretti corrispondenti al vitello io ti do un vitello e tu mi dai 5 capretti questo valore di scambio si chiama razio la parola ragione non è nata in filosofia è nata in economia e la razio è l'equivalenza in quello che io ti do e quello che tu mi devi dare in corrispondenza questa è la razio il mercato nasce qui e ha una sua razionalità ha una sua razionalità perché quello che io l'ho pagato e con chi quello l'ho pagato i greci introdurcono il denaro che di per sé non ha nessun valore se non per legge e infatti il denaro i greci lo chiamano nomisma e nomos è la legge vale perché la legge stabilisce che vale se la legge domani non valesse più o non lo considerasse più un valore il denaro non farà più niente nomos nomisma tant'è che Aristotele dice che col denaro non si può costruire una ricchezza perché il denaro non è un bene ma è il simbolo di un bene la moneta di 50 euro che abbiamo in tasca non vale niente se non c'è la legge che stabilisce che vale nomisma nomos e anche Cristianesimo ha fatto questo profilo interessante perché Cristianesimo dice prestate il denaro e non disponetevi ad attendere la restituzione ditelo alle banche e infatti era proibito costruire le banche cioè prestare il denaro e attendere la restituzione maggiorata perché il tempo è denaro poi hanno incominciato gli ebrei hanno visto i cristiani che devrei si arricchivano loro l'innocenza terza ha dato il permesso anche a Cristiano di costruire le banche sono nate le banche che portano tutti i nomi di santi San Paolo San Antonio da Padova Antoniano eccetera come mai? bisogna guardarci le cose guardando le cose si capisce la loro genesi che nel pendere la loro genesi si capisce il loro significato va bene nasce il denaro il denaro per sé non è una cosa brutta perché in qualche modo ha consentito una liberazione dalla schiavitù il servo della greba doveva consegnare al signore non solo il prodotto del suo lavoro ma anche se stesso non era libero con il denaro il denaro il servo della greba riceveva una mercede per la sua attività ed era libero il denaro quindi ha distinto la vita dalla tua attività la tua attività va pagata ma la tua vita non è di qualcun altro è tua e non può esserci questa fusione tra vita e attività questa fusione esiste semplicemente nella schiavitù che è tutt'altro che scomparsa questa schiavitù è tutt'altro che scomparsa ogni volta che io vado al mercato a comprare un po' di verdura devo pensare a quei poveri neri che vivono come cani senza che nessuno intervenga quindi la schiavitù è ammessa in Italia è ammessa inutile dire altre cose bene siamo al al denaro che non è stato la sua introduzione è stato un momento di liberazione ma oggi il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori oggi io non so più che cosa è buono che cosa è bello che cosa è giusto che cosa è santo so solo quello che è utile e l'utilità viene misurata in denaro non si agisce se non in vista del denaro qual è il vantaggio di fare questa azione e quindi il denaro è diventato regolatore di tutte le nostre azioni come è successo questo è successo perché un bel giorno Hegel il filosofo del primo ottocento scrive a cavallo tra il settecento e l'ottocento scrive in un libro di logica che quando un fenomeno aumenta quantitativamente quantità non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno ma abbiamo anche un mutamento qualitativo radicale del paesaggio l'aumento di un fenomeno non è solo un aumento quantitativo ma è una ristrutturazione qualitativa del paesaggio cosa vuol dire che se qui viene un terremoto del 2 gradi della scala mercati le cose restano più o meno come sono adesso se viene un terremoto del 9 gradi della scala mercati anche questa piazza non c'è più mutamento qualitativo per effetto di un aumento quantitativo e allora Marx che ammirava molto Hegel anche se Hegel era un fenomeno era un filosofo di destra non da poco però Marx lo ammirava molto cattura questo argomento e dice se il tenaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo il tenaro non è più un mezzo ma diventa il primo scopo a partire dal quale si vedrà che cosa quando il tenaro era un mezzo quali erano gli scopi soddisfare i bisogni e produrre i beni ma se il tenaro aumenta quantitativamente fino a diventare una condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene il tenaro non è più un mezzo ma diventa il primo fine a partire dal quale si deciderà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni perché in Africa per esempio muore un'infinità di gente per malattie anche molto semplici io ero molto amico di Gino Strada che è morto una settimana fa perché non pagano perché non hanno soldi e allora ci sono dei bisogni che non vengono soddisfatti perché perché non passano a volerci il tenaro punto a capo per me queste sono colpe collettive anche se non ci riguardano perché capiamo solo i problemi che ci stanno intorno alla nostra casa non da questo siamo uomini siamo semplicemente dei vicini che una cosa appena lontana non ci interessa più il tenaro diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi scopero e il primo fine dopo di che il tenaro si autonomizza l'economia si autonomizza dalla società e la società prende le sue regole dall'economia oggi abbiamo una società regolata dall'economia non regolata dai valori comuni dai processi di vicinanza dalle relazioni sociali è dall'economia che è regolata la società non serve dire che l'ha aperta questa fabbrica licenziamo tutti ma poi come fanno a mangiare non importa in Italia il lavoro costa troppo portiamola in Polonia e dopo qui le operazioni cosa fanno non è un molto problema capite cosa vuol dire che la società è regolata dall'economia in modo drammatico lasciamo perdere perché anche la politica è regolata dall'economia oggi la politica non è più il luogo della decisione come aveva previsto Platone oggi la politica per decidere qual fa l'economia e allora il luogo della decisione si è spostato dalla politica all'economia cosa fanno i politici e vanno in televisione non avendo più una funzione decisionale perché devono essere semplicemente osservati di regole economiche internazionali determinate dal fatto che il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori il mercato tutto sommato è una forma razionale ha una sua razionalità questa razionalità consiste nel fatto di raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi è la forma più alta di razionalità mai raggiunta della storia massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi una volta i primi telefonini erano grandi come delle scatole delle scarpe poi si diventano e svolgevano una sola funzione oggi sono piccolissimi ne svolgono mille massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi questo è lo scopo questa è la razionalità del mercato e non è la più alta la razionalità perché ce n'è una ancora più alta di questa perché il mercato soffre ancora di una passione umana che è la passione per il denaro a differenza della tecnica che non ha neanche più questa passione la tecnica non ha passione la tecnica ha lo stesso principio raggiuntere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi ma non gli interessa il profitto ed è una macchina che non ha scopi non ha prescena di salvezza non dischiude orizzonti di senso al limite non dice neanche la verità perché non se ne occupa la tecnica funziona e siccome il suo funzionamento è diventato universale automaticamente è diventato il registro del mondo abbiamo detto prima che la politica non è più il luogo della decisione perché guarda l'economia e l'economia come fa a decidere i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche allora cosa succede che il luogo della decisione è regolato dalla razionalità tecnica la quale non ha scopo la tecnica non ha scopo l'unico scopo della tecnica è il suo autopotenziamento perché essendo una condizione universale per realizzare qualsiasi scopo ecco qui la stessa macchina di Marx applicata alla tecnica di Marx e Heger automaticamente la tecnica si trova a condizionare tutta la vita umana e non sta solo nel suo abito tecnico potete voi non avere il telefonino no? perché non potete perché se la comunicazione passa attraverso i telefonini e i computer chi non ha i telefonini non ha il computer non ha la comunicazione quindi la socializzazione viene configurata tecnicamente non più antropologicamente il distanziamento sociale non l'ha creato il covid l'ha creato l'informatica io parlo con te guardando un telefonino o con computer questo è il distanziamento sociale più radicale ma non voglio fare un discorso sulla tecnica ma semplicemente far vedere che tu non puoi fare a meno di ricorrere gli espedienti tecnici non puoi scegliere la tua famosa libertà dove va a finire io ho cercato di resistere al telefonino e ho resistito per dieci anni poi l'essere maura che era direttore di Repubblica mi fa o lo prendi o lo scrivi più su Repubblica a quel punto tutto prendi fino alla trasmissione ecco siamo liberi di non avere il telefonino di non avere il computer no quindi la tecnica ti impone la modalità di socializzare adesso c'è imposto anche la modalità di imparare con la didattica distanza e a poco poco ci sono anche quelli che dicono ma però potrebbe anche aiutare Stoll che è stato quello nel 1969 ha inventato il primo computer ha scritto un bel libro nel 2006 in cui alla domanda che gli faceva l'intervistatore Clifford Stoll si chiama questo l'eretico high tech il titolo del libro l'intervistatore gli chiedeva ma l'informatica è utilissima per chi ha un'azienda eccetera e lui risponde sì sì certamente i padroni del vapore possono benissimo usare gli strumenti come inventato purché questi strumenti non entrano nella scuola e l'intervistatore gli dice ma forse questi strumenti i ragazzi hanno più informazioni diventano più intelligenti sanno qualcosa di più e lui risponde a parte che l'informatica non costruisce la sintesi mentale ti dà tante informazioni ma non ti dà i collegamenti e la scuola ti deve dare i collegamenti e poi un buon insegnante non sostituirà mai l'informazione che ti dà un computer e però dice l'intervistatore che lo incalza ancora può sostituire i cattivi insegnanti risposta di Cristo per Stolle no i cattivi insegnanti sì licenziano la scuola senza esitazione giusto io propongo di abolire il ruolo agli insegnanti perché non si può prevedere che un insegnante emotivi gli studenti per il fatto che è di ruolo quando un insegnante non funziona lo sanno gli studenti lo sanno i professori lo sanno i dirigenti scolastici lo sanno i genitori e ha una domanda non funziona questo professore ti motiva e cosa risponde il dirigente scolastico ma cosa ci posso fare è di ruolo e allora siamo di ruolo perché il problema non so gli operai dell'impa non sono di ruolo e perché devono essere di ruolo queste persone ma lasciamo perdere in realtà la tecnica cosa siamo diventati noi dei funzionali di apparati tecnici funzionare di apparati tecnici significa che io inserendovi in un apparato prendiamo una banca un ospedale una scuola devo eseguire le azioni descritte e prescritte dall'apparato se l'apparato dice un impiegato di banca vedi questi titoli deteriorati io un impiegato di banca magari qualche esitazione ce l'ho perché so che sono deteriorati ma però mi hanno detto che se non è vendito non so 200 al mese perdo il posto e allora che lo faccio li vende è libero di non venderli no la nostra libertà questo modellino della tecnica è stato inaugurato dal nazismo non lo dico io questo lo dice Gunther Ambers un allievo di di Heidegger il quale dice che il nazismo è stato il modello dell'età della tecnica in che senso è diventato il modello dell'età della tecnica nel senso la faccio breve c'è una bellissima lieva intitolata del campo di concentramento di Treplinica che cosa provava a fare le cose che faceva e glielo chiede 170 volte quante sono le interviste e il capo del campo di concentramento non risponde mai a un certo punto Agitta Sereni che è questa intervistatrice viene in sospetto che è il capo del campo di concentramento non capisce una domanda a un certo punto risponde dice scusi ma cosa vi continuo a chiedere che cosa provavo il mio compito era di eliminare 3.000 persone entro le 11 del mattino 5.000 entro le 5 del pomeriggio perché il giorno dopo ricominciavo questa storia e lo eseguivo perfettamente non ero incaricato di provare qualcosa capito Franz Stangler si chiamava questo signore che è morto una decina di anni fa senza punizione senza processi senza niente Franz Stangler allora l'impiegato dalla banca che vende i titoli determinati è libero di non vendere no deve obbedire a Franz Stangler che è il suo capo area allora noi siamo funzionari delle regole descritte e prescritte dall'apparato andiamo in un ospedale i medici sono liberi di curare come credono no devono seguire i protocolli benissimo però io ho sentito in un congresso di cardiologia dal più grande esponente di cardiologia così ritenuto tale dagli congressisti ero lì finalmente perché dopo dovevo fare un piccolo discorso sulla medicina nell'età della tecnica diceva che i malati si dispongono in una curva di Gauss curva di Gauss a questa forma quelli che si trovano in centro il protocollo funziona quelli che si trovano all'inizio alla fine se applicate il protocollo muoiono e allora se per caso un medico dunque se il medico applica il protocollo il paziente muore è salvo il medico un paziente se invece per una sua intuizione dice a questo non va bene il protocollo e poi il paziente muore lo stesso per altre ragioni quello deve subire un processo e allora anche in ospedale si segue la regola di Franza Stagna dove la responsabilità è solo nei confronti dei superiori ma di fronte mai con la persona che è di fronte io che non pago le bollette online perché non sono capace vado all'ufficio postale vedo queste vecchiette che chiedono all'impiegata magari le informazioni quando dicevano la pensione magari non gli torno al conto non dicevano di me mi chiedono qualcosa e l'impiegata gli risponde questo non è di mia competenza Franza Stagna oppure questo non rientra nel mio manzionale Franza Stagna capito? quello che ha buttato un pilota americano che ha buttato le bombe sui rocchi nel Nagasaki a cui Gunter Rantes il pilota che ho citato poc'anzi ha chiesto ma tu da americano non sapevi neanche che esisteva il Giappone e che quando ti hanno dato questo incarico ti hanno dato solo le coordinate per arrivarci che non conoscevi gli usi costumi dei giapponesi che non sapevi niente cosa hai provato quando hai canciato le bombe? la risposta Nottinger that was my job niente questo era il mio lavoro io eri caricato a buttare le bombe e siccome le buttate su Nagasaki e Hiroshima e non nel mare ero un bravo aviatore un bravo militare allora pensai bene a un male lo misuriamo sulla nostra coscienza siamo liberi di comportamenti differenti bene o male come fai le azioni prescritte dalla parata a scuola se tu svolgi i programmi ministeriali sei un buon insegnante poi magari non hai mai guardato in faccia i tuoi studenti non li hai educati e non sto a fare un discorso sull'educazione se no mi altero ulteriormente però sei fatto i programmi ministeriali anche se non hai insegnato la divina commedia presso a poco come Benigni perché io penso che gli insegnanti devono fare concorso di teatro così magari insegnano la divina commedia come perché la cattedra è un palcoscenico non vuole fare discorsi e se tu vuoi montare su un palcoscenico devi fare un po' di teatro ma devi fare come Benigni per raccontare la divina commedia non ci riuscirai ma se stai in caro niente sulla battaglia di Campantino alla nota 30 a pagina 51 stai sicuro che gli studenti non studieranno mai la divina commedia ma vogliamo riformare questa prima detta scuola ma non ce la faremo mai io non ho più speranza anzi sono anche stufo di fare conferenze tanto cosa cambia? cosa cambia? niente bene allora abbiamo capito che cosa vuol dire essere diventata la libertà te l'ascoltiamo la responsabilità solo nei confronti dei superiori per la persona che hai davanti o per gli effetti nelle tue azioni sei suonorato sei suonorato a questo punto se tu i tuoi scrupoli di coscienza sono tali da creare una situazione di disagio tale l'apparato ti fornisce i psicologi cognitivisti e comportamentisti i quali ti insegnano che se le tue idee sono diverse da quelle dell'apparato sarà bene che ti uniformi non potendo tu cambiare l'apparato se ti uniformi dopo sei più sereno oppure se il tuo modo di andare a lavorare non assumo un comportamento come quello previsto dall'apparato i comportamentisti ti insegnano come ti devi comportare naturalmente nella forma che è gradita dall'apparato per evitare il conflitto e così si crea il conformismo diventiamo tutti uguali tutti omologati ma soprattutto si crea quella dimensione di scissione dentro di noi tra pubblico e privato nel pubblico dobbiamo seguire delle regole che sono le regole dell'apparato per il privato abbiamo il weekend non so qui cosa si fa nel weekend a Milano vanno tutti via nella città si vede che lo stress è tale che basta anche un sabato o domenica è sufficiente per mettersi in autostrada e stare in coda che è già più divertente secondo loro di stare a casa avesse un nuovo video il pubblico segue le sue regole e nel privato cosa si fa nel privato il privato servirebbe per entrare in rapporto con se stesso tutto sommato perché le regole della tecnica essendo regolata la tecnica essendo solamente la razionalità pura se questo concetto diventa universale ma noi abbiamo anche delle componenti razionali l'uomo ha anche delle componenti irrazionali per esempio il dolore è irrazionale l'amore è irrazionale l'immaginazione è irrazionale l'ideazione è irrazionale il sogno è irrazionale il desiderio è irrazionale e chi li cura queste cose qua perché la tecnica ti chiede una razionalità rigorosa noi per 5 giorni a la settimana facciamo un esercizio di razionalità nei luoghi dove lavoriamo dove studiamo e poi queste cose qui come vengono fuori come le curiamo e allora bisogna introdurre una malattia grave che si chiama schizofrenia che io definisco schizofrenia funzionale riuscire a distinguere il momento pubblico da quello privato può essere una cosa in pubblico e un'altra cosa in privato così schizofrenia funzionale schizofrenia è una cosa bestiale come patologia schizofrenia vuol dire che la tua mente è scissa schizia vuol dire scissione e noi siamo detti scissi in grecia lo dicevano l'uomo è un lacerato noi invece siamo diventati degli uomini scissi nell'età della terra non altro che liberi non abbiamo neppure un'identità noi che abbiamo costruito da noi stessi perché l'identità te la dà riconoscimento noi non nasciamo con un'identità l'identità ce la danno gli altri l'identità è un dono sociale un dono sociale se a un bambino dico sei bravo cresci con un'identità positiva dico che un cretino c'è la possibilità che cresca con un'identità negativa anche quelli che vanno a lavorare se gli aumentano in carriera hanno un incremento di identità se gli fanno nuovi hanno un decremento di identità demotivazione depressione tante volte gesto estremo sono gli altri che ci danno l'identità questo è dall'origine del mondo i greci l'avevano capito e avevano messo la società prima dell'individuo e Aristotele dice se uno entra in una città e pensa di poter fare a meno degli altri o è bestia o è Dio e siccome non siamo Dio né bestia è un bisogno degli altri la società viene prima perché è l'uomo da riconoscimento è l'uomo che ti conferisce identità tutto questo è stato distrutto dal cristianesimo il quale ha privilegiato l'individuo sulla società perché porro un necessario mestre servare anima ma la cosa più importante è salvare l'anima e siccome l'anima la salva individualmente e allo Stato viene conferito il compito di togliere gli impedimenti che si froppongono la salvezza dell'anima Sant'Agostino e così abbiamo creato l'individualismo oggi ci si lamenta dell'individualismo dell'egoismo dell'arcisismo sono tutti derivati da questo primato dell'individuo rispetto al primato della società questo significa essere greci capire che la società viene prima dell'individuo che gli altri vengono prima di noi pensate che la parola persona che d'accordo vuol dire maschere in latino ma vuol dire anche per sé unum per sé unum sapete come dicono persone greci prosopos prosopsis la persona è quello che è quello che sta davanti al mio occhio e l'altro prosopsis prosopos oh vi rendete conto che abisso c'è tra le due culture e allora scherzo fine funzionale l'identità data dalla società resta libero l'amore una volta non è che si poteva scegliere l'amato e la marta da sposare no l'amore era in qualche modo condizionato dal mondo genitoriale no anche nel mondo musulmano mi pare che assistiamo a questi fenomeni ma anche da noi fino almeno non so un secolo cinquant'anni fa le cose andavano passapoco così in forma diretta o interetta i genitori sceglievano che cosa era bene che cosa era male l'amore sembra libero che è una bella cosa solo che Freud ci dice guarda che tu quando ami non è che hai scelto non è che sei libero perché quello che tu chiami la tua scelta è l'effetto delle tue pulsioni e le tue pulsioni e tu scambi l'input pulsionale la forza della pulsione come la tua scelta perché la senti così forte che l'assumi come tua scelta assolutamente irrazionale infatti vi rendete conto una persona può sbagliare fidanzato una ragazza può sbagliare il ragazzo un ragazzo può sbagliare la ragazza i genitori possono dire guarda che non è il ragazzo per te gli amici possono dirgli guarda che quella non è la ragazza per te e loro rispondono che cosa si lo so quindi la testa funziona ma non posso farci niente quindi non è un'acqua scelta è la tua pulsione che ti promuove e infatti il tempo però vedete cosa fa distingue un inconscio pulsionale dove ci sono le leggi della specie della natura la quale ha due obiettivi solamente che consiste nelle due armi che possiede che sono la procreazione e la difesa della trole la specie va avanti solo su queste parti queste cose non le aveva scoperte lui ma un filosofo che si chiama Schopenhauer a cui Freud dedica una pagina apertissima di riconoscimento dicendo che la psicanalisi non l'ha inventata lui Freud ma l'ha inventata Schopenhauer la differenza tra lui e Schopenhauer consiste nel fatto che Schopenhauer non aveva i casi clinici e poi diceva che quando uno dice queste cose se è un filosofo lo si perdona se è un medico lo si perseguita dice Freud cosa aveva detto Schopenhauer che dentro di noi c'è un conflitto tremendo perché noi abbiamo due soggettività che ci abitano una la chiamiamo io e la conosciamo l'altra si chiama specie la specie dal punto di vista di questo conflitto i maschi non lo percepiscono neanche infatti vengono su come pozzo celebrando se stessi le donne si invece lo percepiscono ma lo percepiscono già da prima già la svelta non so vedete una ragazza che quando comincia a interessarsi dalla sua bellezza della sua accettazione sociale a costruirsi un'immagine a dipingersi gli occhi a vestirsi in un certo modo quando sovventura il ciclo mestruale avverte anche se non è conscia anche se non è drammatico che il suo corpo non è solo per la sua immagine per come la vuole lei ma anche per la specie un'altra cosa che non è lei è la specie capito? ho detto una donna che vuole generare questa donna per generare deve subire la trasformazione del suo corpo la deformazione del suo corpo che forse non è una cosa piacevole il trauma della nascita che non è solo del bambino ma anche la madre che lo mette al mondo la soppressione del suo tempo della sua somma perché i bambini devono essere i neonati devono essere costantemente accuditi talvolta la perdita del lavoro o quantomeno la sospensione del lavoro con la perdita del lavoro si perde anche la socializzazione perché la socializzazione passa attraverso i luoghi lavorativi se guardate dal punto di vista dell'economia del Dio è una perdita secca guardate dall'economia della specie è un guadagno totale perché cosa guadagna la specie la nascita di un altro figlio cioè la propria continuazione è la specie degli individui non gli importa niente e non capisco perché la gente non ne capisce queste cose cosa ti fa la specie ti clonisci di sessualità e di aggressività per un certo periodo della tua vita poi ti toglie via la sessualità perché tanto ormai non serve più per generare ti toglie l'aggressività perché tanto cosa vuoi fare nella tua decadenza questo fa la specie e noi ci pensiamo al vertice del creato ma siamo come tutti i viventi come dicevano giustamente i greci nascere crescere generare morire punto anche se non ci piace le cose e allora Freud dice c'è un inconscio pulsionale dove vengono le leggi della specie sessualità e aggressività sessualità per la generazione aggressività per la difesa della propria poi c'è un inconscio sociale che noi acquisiamo attraverso l'educazione per cui nessuno di voi mi viene in mente di fida di casa nudo ci vestiamo automaticamente ma anche l'incoscio sociale è inconscio perché non facciamo un ragionamento per comportarci decentemente nella società poi io ho aggiunto che adesso ci troviamo in un inconscio tecnologico è sovventrato dentro di noi un inconscio tecnologico che ha modificato persino la psicopatologia prendiamo la patologia più diffusa che si chiama depressione nell'età della disciplina la depressione consisteva nell'età della disciplina che per me è durata fino agli anni 60 il tema della depressione era la colpa l'ascito cristiano cavalcato dalla psicanalide la colpa la colpa che giocava sul registro per me è soproibito e quando questa dimensione della colpa quando invadeva ti senti colpevole non riesci a trovare la soluzione per pacificarti con questa tua colpa neppure le confessioni bastano questo dal punto di vista religioso dal punto di vista sociale hai la colpa per esempio di aver fatto fallire la tua azienda hai la colpa di aver fatto delle cose che non avevano fatte e via di seguito la colpa e chi non ha colpe chi non sente le colpe è uno psico apatico cioè la psiche non registra le trazioni ecco e allora il gioco era tra il permesso e il proibito oggi no non è più tra il permesso e il proibito il tema della depressione il tema della depressione si è organizzato ad un altro livello ce la faccio o non ce la faccio a raggiungere gli obiettivi che mi vengono imposti dal mio apparato ce la faccio non ce la faccio a raggiungere gli sfoghi quindi non è più la colpa la tematica ma è il vissuto di inadeguatezze allora ansia allora farmacia pillole in molti casi di cocaina per essere up to date in tutte le circostanze c'è questa frenesia continua questo essere sempre all'altezza della situazione e poi piombare nella depressione che è ciclica e la depressione è diventata la tematica tipica dell'età della tecnica dove tu esisti relativamente perché sei un funzionario di un apparato l'apparato ti pone negli obiettivi ogni anno ti alza l'asticella e tu forse non ce la fai devi essere sempre davanti al computer perché se perdi un messaggio non funzioni tanto bene il tuo compagno di lavoro che una volta era il tuo compagno il tuo collega adesso diventa il tuo nemico perché se lui è più bravo di te in caso di licenziamento ti fai fuori tu non lui quindi si diventa un po' diffidente anche sul posto di lavoro dove è la libertà va bene vediamo qui il discorso definitivamente perché penso davanti abbastanza stancato con una considerazione voi sapete cos'è la genetica no? e lì non c'è libertà e allora la genetica come sei fatto lì è deciso anche di come ti ammalerai e come morirai oltre a decidere di come viverai la genetica e adesso la medicina sta avvolgendosi sempre più in chiave genetica con cui si potranno modificare dalle situazioni altrimenti i modificabili che condurano la morte niente di male con la genetica però non c'è libertà allora i genetisti per non apparire troppo deterministi per farsi accettare dicono beh però l'uomo è costruito anche dal suo ambiente niente di più deterministico dell'ambiente a partire da dove sei nato così sarai l'ambiente è molto che è molto ovvio se voi foste cresciuti in una grotta talebana sareste talebani inevitabilmente siete cresciuti qui avete questa psicologia foste cresciuti in Austria non avreste un'altra l'ambiente ti condizioni in maniera radicale allora tra genetica e ambiente noi siamo il frutto di questi due processi deterministici chiudo con un esempio per far capire la cosa definitivamente un giorno Jean Paul Sartre è andato in montagna senza una guida caduto è finito l'ospedale e là con la gamba tirata è venuto a trovare il suo collega e amico Merleau-Ponty e gli ha detto ma Jean Paul non potevi andare in montagna con una guida e Jean Paul gli risponde secondo te io vado in montagna con una guida cosa vuol dire questo raccontino vuol dire che l'identità non ti consente di essere libero la tua identità ti consente di scegliere una cosa piuttosto che l'altra l'identità te ne fa scegliere una sempre quella Jean Paul per il suo carattere la sua identità non ti consente di andare con una guida in montagna la libertà confligge con l'identità non sono libero e la fiducia sociale si fonda sul fatto che l'identità è più forte della libertà io mi fido di te perché ti conosco e cosa vuol dire che prevedo che la tua identità non cambi da giorno alla notte come Mr. Hyde e il Dottor Jack che sarebbe uno sdoppiamento della personalità e la fiducia sociale si fonda sull'identità perché già lo che ti fai è una cosa diversa da quella che hai sempre fatto per cui hai raccolto fiducia comunque se mi fa piacere considerarmi libero non ho nessuna obiezione grazie grazie di cuore perché so i sacrifici che hai fatto per essere oggi qui a Squinsano so che sei in giro da moltissimi mesi e per questo ti sono personalmente grato e mi permetto a nome della commissione della città di Squinsano di esprimerti la più ampia gratitudine con un abbraccio con l'auspicio di rivederci sempre qui a Squinsano il prossimo anno grazie grazie a tutti volevo togliere l'occasione per invitarvi sabato prossimo sempre qui a Villa Cleopazzo alle ore 21 ci sarà il concerto di Maria Mazzotta che è una voce salentina tra le più apprezzate a livello internazionale e sarà il settimo appuntamento della rassegna filia quindi vi aspettiamo tutti quanti sabato prossimo qui a Villa Cleopazzo alle ore 21 grazie grazie di cuore grazie a tutti grazie per aver partecipato grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti